Oggi per volere delle Nazioni Unite si celebra in tutto il mondo la giornata della lotta contro la povertà. Qui la parola più importante e significativa è lotta, combattimento contro l'ingiustizia, contro la miseria, l'emarginazione, le persone scartate perché sono povere. Fra poco tra l'altro per volere invece di Papa Francesco della Chiesa Cattolica il 18 novembre sarà celebrata la giornata mondiale dei poveri e qui c'è una armonia, una coincidenza perché nello stesso argomento Papa Francesco nel voler celebrare questa seconda giornata il 18 novembre prossimo invece sottolinea la parola poveri perché la povertà sostanzialmente non esiste come abbiamo detto, non esiste la miseria nel sottosviluppo, esistono le persone povere, i bambini, i anziani, cioè come dice il Papa la carne di Cristo, l'uomo al centro e le sue sofferenze al centro, non i concetti astratti. Quindi lottando contro la povertà noi stiamo lottando a favore dell'uomo e soprattutto stiamo facendo in modo tale che questa lotta diventi un modo intelligente e razionale di governare la ricchezza.